Se lei ha avuto la bontà di seguirci non c'è nessuna ambiguità, c'è sempre chiarezza, ferma condanna della Russia, non so a quale ambiguità lei si riferisca, ma lei si riferisce a Calenda o alla posizione del Movimento 5 Stelle? Allora, la posizione del Movimento 5 Stelle, lo ripeto, sino alla noia, sempre la stessa, ferma risoluta condanna della Russia, anche questi ultimi attacchi abbiamo condannato, questi ultimi attacchi missilistici, sostegno alla popolazione ucraina che ha diritto all'autodifesa, l'abbiamo sostenuta in tutti i modi, ma il problema è che è scomparso il negoziato di pace, che per noi è l'unica via d'uscita, visto che parliamo di questo completo, è per questo che auspichiamo una grande manifestazione nazionale sulla quale non vogliamo mettere un cappello, perché non è il nostro interesse mettere un cappello politico, anzi vorremmo che tutti i cittadini venissero e partecipassero a questa manifestazione grande nazionale, anche i cittadini che hanno sostenuto le forze di centrodestra, la pace non ha colori, è l'unica via d'uscita, è un negoziato di pace, vogliamo una conferenza sulla sicurezza, una conferenza internazionale, vogliamo che sia sotto legge delle Nazioni Unite e con il sostegno della Santa Sede, grazie.